113 nuovi casi di covid oggi in Abruzzo. Il 4% dei 2842 tamponi molecolari delle ultime ore ha dato esito positivo. Se però si aggiungono anche i 1306 test antigenici, il tasso odierno di positività scende al 2,7%. I nuovi casi riguardano persone d'età compresa tra 1 e 101 anni, 9 i decessi, tre dei quali sono dei giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle ASL. Si tratta di persone tra i 67 e 96 anni, due in provincia di Chieti, uno in provincia di Teramo, cinque nell'Aquilano e uno nel Pescarese. Dall'inizio della pandemia in Abruzzo sono state 1.342 le vittime del covid. I guariti delle ultime ore sono invece 440. Al momento nella nostra regione sono 11.046 positivi accertati, meno 336 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. Scendono i ricoveri in area medica, sono 11 in meno i ricoverati in terapia non intensiva per un totale di 443 pazienti. 44, più uno rispetto a ieri con due nuovi ricoveri, sono invece in terapia intensiva, mentre gli altri 10.559, meno 326 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Del totale dei positivi, 11.772 sono della provincia dell'Aquila, 8.687 di quella di Chieti, 8.142 del Pescarese e 10.425 del Teramano. 342 vengono invece da fuori regione, mentre per 167 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. I dati sono forniti dall'assessorato regionale della sanità.